... Queste sono le tre vesti che il Santo Padre, una volta appena sarà eletto, indosserà per potersi affacciare al balcone e benedire la folla. Noi le dobbiamo consegnare prima che inizi il conclave, perché ovviamente non possiamo entrare dentro il conclave una volta che è iniziato. E' sempre un'emozione, è sempre, cioè io a vedere le sottane così in vetrina, per me è sempre la prima volta, cioè te dà una cosa meravigliosa, bella. E poi chi sarà il prossimo? È quello che è l'importante, chi sarà il prossimo? È un'emozione, è un'emozione, è un'emozione, è un'emozione, è un'emozione, è un'emozione di vedere le preparazioni che arrivano a questo punto, anche dal punto di cui il nuovo popolo è un'emozione, quindi è un'emozione, è un'emozione di vedere e quindi vediamo le possibilità rogues per il nuovo Holy Father. So we can see the three measurements for the small Pope, or the middle Pope, or the middle size Pope, or the bigger size Pope, so we have no idea who the Pope will be, so it's an exciting time and a very important time for the Church, and we just have to wait and see being proud to the Holy Spirit that we receive the person that we're supposed to be having.